Gloria è morta e lo ha fatto da persona e paziente libera. Si è autoiniettata il farmaco messo a disposizione dall'ULS. Se n'è andata alle 10.25 del 23 luglio, ha 78 anni nella sua casa a fianco dei suoi cari. La vita è bella ma solo se siamo liberi e io lo sono stata fino alla fine l'ultimo messaggio di Gloria a nome di fantasia. Poche parole, le stesse, che disse appena ottenuto il via libera al suicidio assistito un mese e mezzo fa. Secondo caso in Italia, il primo con il supporto dell'azienda sanitaria. Si sente libera e ha confermato anche che la vita è bella. Il suo personale testamento alla politica perché faccia in fretta e riempie il vuoto normativo sul fine vita. Poche importanti parole affidate alla situazione Luca Coscioni. La sanità del Veneto ha evitato a Gloria una morte tra sofferenze che non avrebbe mai voluto. Veneto, che è la prima regione in Italia ad avere raggiunto e depositato la soglia di firme 7.000, necessaria per poter portare la proposta di legge regionale liberi subito sul suicidio assistito in consiglio. Aiuterà ad avere tempi brevi e piena assistenza. Veneto, che per l'associazione ora è un modello da seguire. Il fatto che l'aiuto sia arrivato nella regione presieduta da Luca Zaia della Lega dimostra che su questo tema non valgono i recinti dei partiti e delle coalizioni conta la sensibilità nei confronti delle persone che soffrono e delle loro scelte. Paziente oncologica con una diagnosi che non le dava scampo, che le faceva soffrire pene indicibili. Il via libera a sei mesi dall'avvio dell'iter. Meno di due settimane fa aveva fatto appello alle istituzioni a Zaia per accelerare i tempi del rinnovo delle verifiche. Le sue condizioni di salute stavano peggiorando. Prima di lei Stefano Geller, vicentino affetto da distrofia muscolare, ha ottenuto il parere favorevole dell'azienda sanitaria numero 7 e del comitato etico, quattro casi in tutta Italia. Hai ottenuto e fatto ciò che volevi ed è giusto così. Una scelta difficile, totalmente personale, che va sempre difesa, sostenuta e rispettata, scrive sui social Geller. Buon viaggio Gloria, ovunque tu sia andata.